FEDMARESCIALLO GIOGIO FEDMARESCIALLO GIOGIO Sei il nostro uomo migliore. Preparati a partire. Oggi sarete impegnati in attività come giochi di guerra, tecnica di imboscata e utilizzo di esplosivi. Non credo di saperlo fare. Cosa? Ma certo che sai farlo. Alla tua età avevo un amico immaginario. Mi metteva sempre nei guai. Merda! Ragazzi, è ora di bruciare qualche libro! Sì! Cresci troppo in fretta. A dieci anni non si dovrebbe esaltare la guerra e parlare di politica. Heil Hitler. Vorrei che tanti nostri giovani avessero il tuo cieco fanatismo. Lo sapevi? Gli ebrei riescono a leggersi nella mente. Ma come fai a riconoscerne uno? Potrebbero sembrare come noi. Ciao. Lo sai che cosa sono? Dillo. Un ebrea. Gesundheit. È stato intenso. Che cosa dovrei fare? Non ne ho idea. Ci sono! Negoziare! Puoi bruciare la casa e accusare Winston Churchill. O negoziare. Se ti denuncio, saranno guai per te. Non vinceranno mai. L'amore è la cosa più forte al mondo. Tua madre mi ha accolta. È gentile. Mi tratta come una persona. Voi due sembrate intendervi bene. Lei non sembra una persona cattiva. Sono il nemico. Non sei un nazista, Jojo. Sei un bambino di dieci anni a cui piace indossare una buffa uniforme che vuole fare parte di un gruppo. Yorkie! Jojo! Oddio. Niente ha più senso ormai. Lo so. Decisamente non è un buon momento per essere un nazista.